Questo audio è stato progettato per aiutarti ad attrarre l'attenzione, il desiderio e i pensieri della persona che desideri, lavorando profondamente con il tuo subconscio. Cosa otterrai ascoltandolo almeno per 60 giorni? Una connessione magnetica con la persona che ti interessa, che sia una relazione che vuoi manifestare o il ritorno di una vecchia fiamma. Una presenza irresistibile nella sua mente, alimentata da desiderio e attrazione. Una trasformazione energetica che attirerà amore, attenzione e armonia nella tua vita. Questo è molto più di un semplice audio. È uno strumento per sintonizzarti con il potere del tuo subconscio e con l'energia universale. Se desideri lavorare a un livello avanzato e creare una connessione telepatica autentica con la persona che ami o che desideri, ti invito a scoprire il mio esclusivo percorso Telepatia per 4, che trovi qui sotto. Dentro Telepatia per 4 esploreremo Tecniche avanzate per rafforzare la tua energia magnetica Esercizi mirati per connetterti telepaticamente con la persona che ami Strumenti potenti per sbloccare il tuo potenziale e manifestare relazioni profonde e appaganti Tutte le affermazioni le trovi qui sotto e utilizza auricolari o cuffie per i benefici di questo audio. E' un'unico nuotrista per rafforzare il tuo sentimento. Inoltre la tua energia magnetica è una notizia di un'unico' sblocco, E' un'unico' sblocco, e' un'unico' sblocco, E' unico' sblocco, e' un'unico' sblocco. E' unico' sblocco, un'unico' sblocco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.